Primi sal finalmente firmati dal dirigente a interim dell'ufficio speciale del cratere Giovanni Lucarelli che da lunedì ha avviato i primi passi del suo nuovo incarico a tempo in sostituzione della figura del titolare non soltanto dell'ufficio speciale della ricostruzione del cratere sismico ma anche in quello dell'Aquila, orfani di titolare appunto dal 31 ottobre. Uffici diversi con esigenze differenti, maggiori le criticità del cratere rispetto alla situazione aquilana. L'ufficio speciale di Fossa gestisce la ricostruzione di 56 comuni del cratere sismico e oltre 120 fuori cratere. Qui a soffrire maggiormente la mancanza di un titolare che firmi le determine e i sal sono le imprese. I mancati pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori hanno determinato infatti grossi problemi alle ditte edili alle loro subappaltate. Per i comuni che avevano in cassa alcune rimanenze di qualche milione di euro non ci sono stati problemi ma per quelli che non avevano economie di cassa è stato impossibile liquidare. Lucarelli ha nell'immediato acquisito potere di firma su tutta quella documentazione e tutte le procedure di tipo amministrativo ma non ancora riceve la piena operatività per quanto riguarda la parte contabile. In sostanza per questa parte contrattuale deve ancora arrivare la bollinatura della Corte dei Conti e potrebbero volerci anche 20 giorni per cui i comuni che non hanno i soldi in cassa dovranno ancora aspettare. Ci sono aspetti riconducibili a una situazione da paziente acuto che sono le situazioni relative ai provvedimenti di spesa che l'ufficio deve comunque sbloccare ed emanare. Per quello che riguarda però provvedimenti che hanno un connotato finanziario sono in corso una serie di iter approvativi che spero si concludano rapidamente però tutta quella parte che è di natura strettamente amministrativa e quindi non contabile su cui ho un potere di firma immediato sto affrontandola e conto su questo di dare delle risposte in tempi molto più ristretti rispetto alle risposte che posso dare sugli aspetti finanziari contabili. Quindi per quelli bisogna aspettare ancora un po' di tempo? Quello sì perché comunque sono iter procedurali che hanno un carattere di terzietà rispetto all'ufficio e quindi non ci sono margini per poter modificare le tempistiche. Il mio è un mandato molto limitato, la finestra temporale si chiude a gennaio poi se verrà nominato da qui a due giorni il nuovo titolare ovviamente lascio nell'immediato però fino a che non viene nominato uno io porto avanti il mio lavoro con senso di responsabilità nei confronti del territorio.